la biazza su questa non è disinteressiva è possibile variare al traccio che adesso è impostato su 2 per variarlo al tattacene il traccio in controllo era V2, adesso ho spento c'è la piazza qua che indica che è spento la piazza la piazza Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.